Sono felice di stare lì, di poter fare il testimone, ringrazio tanto il signor Zanzotto, il signor Zanzotto e tutti quanti qua, saluto i colleghi che non conoscono ancora, però ci conosciamo, grazie. Il primo messaggio, un testimone in particolare, il lavoro che è il gruppo grafico, il gruppo grafico dei grafici di David Zilman-Sinkin è praticamente dedicato alla poesia di Heidner che sono le installazioni che ci sono nel territorio. Quindi le poesie di Heidner non saranno soltanto un verso stampato che rimarrà accanto a quelli di Zanzotto e nel lungomare, ma in questi giorni vivono attraverso anche delle installazioni di giorni artisti nel territorio di Heidner. Tanti auguri, adesso io direi che tocca a Tiziano Scarpa testimoniare, direi, questo passaggio di testimone leggendo alcune poesie di Zanzotto e di Heidner. Prego.